Una, due o tre sventagliate di mitra contro la poppa del peschereccio degli scafisti che fuggia e non si ferma. Nel natante, 16 egiziani con la scena da foresta nel Mediterraneo che è ripresa con un telefonino su cui rindaga la procura militare. L'episodio lo scorso 9 novembre, durante l'inseguimento di un piccolo peschereccio in fuga senza bandiera sullo scafo, è sospettato di avere trainato e poi sganciato una chiatta a largo di Capopassero con 176 profughi siriani a bordo. L'abordaggio è stato un successo, hanno poi chiarito dalla marina militare e tutti gli scafisti sono stati arrestati mentre l'imbarcazione è affondata per le cattive condizioni del mare. Nessuna parola invece delle mitragliate sul natante in fuga. Nel telefonino si vedono però le raffiche e anche pezzetti di legno che schizzano via, oltre ad un paio di marò dietro il mitragliatore. La domanda è adesso se si può sparare da un barcone di presunti scafisti che scappano. Leggi e anche buonsenso dicono di no, a meno che non ci sia stata una violenta offesa a colpi di arma da fuoco. C'è anche poi la descrizione sull'episodio sul quale adesso dovrà indagare la procura militare dei vani tentativi di stabilire un contatto radio con i conducenti del natante i quali però iniziano una precipitosa fuga verso le acque lipiche facendo salire in coperta altre persone che prima erano nella stiva. Poi l'abordaggio e la resa come sia avvenuta questa resa anche in questo caso nessuna parola.